Firmato oggi un importante accordo collaborativo e protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza per il contrasto alle frodi nell'uso delle risorse pubbliche anche connessi al PNRR. Proteggere queste risorse ingenti è l'obiettivo consentendo alla Guardia di Finanza di compiere accertamenti mirati a sottoscrivere l'intesa al Presidente Marsilio e il Comandante Regionale D'Alfonso alla presenza del Generale di Brigata Carmelo Azzara, Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Abruzzo e dell'assessore Nicoletta Veri. Molto importante questa sinergia dopo quella di formazione. Questa però è una componente operativa perché ci sarà uno scambio di dati per prevenire eventuali infiltrazioni criminali nella gestione dei fondi. La Regione condividerà la sua banca dati e questo permetterà alla Guardia di Finanza di vigilare. Ci sarà anche una formazione specifica per aggiornare gli operatori della Regione e i finanzieri e sarà attivato un tavolo tecnico semestrale. Questa è un'iniziativa che ha una componente molto operativa, uno scambio di informazioni nel settore di tutti i fondi che attengono la spesa pubblica, quindi finanziamenti regionali, finanziamenti nazionali, finanziamenti comunitari, finanziamenti da PNRR che consentono alla Guardia di Finanza di svolgere accertamenti mirati affine che questi finanziamenti arrivino a buon fine come del resto è intendimento della Regione Abruzzo. Per noi la trasparenza è l'elemento essenziale della pubblica amministrazione, la Guardia di Finanza non deve inseguire gli amministratori e non deve esserci reciproca diffidenza, la collaborazione deve essere piena e totale, questo protocollo sancisce questo principio, dobbiamo noi avvisare la Guardia di Finanza quando sentiamo puzza di bruciato e la Guardia di Finanza che deve metterci sull'avviso quando capisce che ci sono tentativi di infiltrazione nello scambio di informazioni e nella formazione anche professionale degli operatori e poi il segreto del mettere insieme pezzi dello Stato contro la criminalità e contro il malaffare.